Presidente Bonsignore, lei ha assunto questa iniziativa di rivolgersi alla Lega Nazionale di Lettanti chiedendo il rinvio delle partite dopo la sospensione degli eventi con il pubblico presente e deciso dal governo, perché ha deciso di assumere questa iniziativa? Sì, in effetti è vero, dopo la decisione del governo centrale di sospendere tutte le partite di calcio e quindi tutte le manifestazioni sportive per un periodo di tempo adesso limitato fino al 3 aprile, ma poi potrebbe anche essere più lungo, abbiamo cercato di vedere se potevamo trovare una soluzione diversa e quindi chiedendo piuttosto che soltanto far disputare le partite a porte chiuse cercando di sospendere i campionati, il campionato dilettantistico, perché un campionato dilettantistico, partite dei dilettanti senza tifosi, praticamente sono delle partite che avverrebbero in un clima assolutamente surreale e verrebbero a penalizzare quelli che sono tutti gli sforzi dei dirigenti, dei calciatori, di tutti coloro che hanno lavorato in questi mesi per cercare di raggiungere gli obiettivi. È chiaro che siamo ormai alla fine, mancano soltanto sei partite ed è il momento più bello adesso del campionato e quindi senza tifosi sarebbe veramente penalizzante. Abbiamo pensato di chiedere agli organi direttivi della Lega Nazionale Direttanti di poter rinviare il campionato per alcune settimane, considerato il fatto che ormai mancano sei partite soltanto e si potrebbero riuscire a recuperare queste partite o con turni intrasettimanali o nel periodo delle weekend di Pasqua dove i campionati erano già fermi. Lei naturalmente auspica che anche altri suoi colleghi presidenti di altre società facciano la stessa istanza? Ovviamente abbiamo diramato questo nostro comunicato sperando che anche gli altri nostri colleghi delle altre società sportive potessero accoglierlo perché se tutti assieme presentiamo questa nostra domanda gli organi di governo potrebbero prenderla in considerazione e davvero discuterne sul serio. Noi pensiamo che questi campionati direttantistici che non hanno riprese televisive, che vivono soltanto della passione dei tifosi, anche perché noi abbiamo costruito soprattutto la nostra squadra proprio per coinvolgere i tifosi e per coinvolgere tanta gente e non nascondiamo che ci danno davvero tanto aiuto sia dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto dal punto di vista finanziario. Noi speriamo di poterli avere sempre vicino soprattutto nei momenti più importanti della stagione.